Bene, è il ruolo che secondo me è un po' più congeniale per le mie caratteristiche. Mi ha fatto piacere di tornarci a giocare e spero di aver soddisfatto. Penso che uno gioca sempre per mettere in difficoltà l'allenatore, per dimostrare che può giocare, che può giocare anche da titolare. Poi è normale, il mister fa le sue scelte, io le rispetterò sempre. Rispetto a Martino siamo due giocatori con caratteristiche diverse, con un'impostazione molto diversa. Dipende anche magari dalle esigenze, da quello che l'allenatore preferisce e poi sarà sempre lui a scegliere. Secondo me è stato proprio un problema di distanza che abbiamo lavorato in settimana, abbiamo accorciato. Perché vedevamo che stanno un po' lunghi, facevamo fatica e bisognava stare più attenti, a stare stretti e compatti, così da tutti i reparti sono facilitati nel gioco stando stretti. E quindi l'abbiamo capito, l'abbiamo fatto, l'abbiamo messo in pratica e il gioco è uscito. Come penso che la speranza vostra è che il Bari continui ad andare avanti senza difficoltà, la speranza è anche di chi è giocatore del Bari, che il Bari rimanga saldo e duraturo nel tempo. Io certo mi vedo assolutamente nel posto, chi è che non vorrebbe fare una carriera nel Bari, è una grande società, ha una grande storia. Secondo me possiamo lottare per il playoff, sicuramente se giochiamo come sappiamo e come potremmo fare, la squadra ha tutte le carte a regola per puntare il playoff. Secondo me è stato un caso, in senso che i numeri parlano che abbiamo fatto più punti in trasferta rispetto a che in casa, ma non è dovuto a nessun tipo di problema casalingo o che cos'altro.